Torna in studio. Amici 24. La decisione di Maria De Filippi a ridosso della prima puntata. Amici 24. La notizia fa impazzire i fan. Come ogni anno, settembre è il mese in cui la maggior parte della programmazione televisiva riparte. Non fa eccezione il talent show che regala soddisfazioni e ottimi incassi a media sete alla fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. Ormai manca davvero pochissimo alla prima puntata. Domenica 29 settembre, alle ore 14 su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento con la nuova edizione di Amici. Proprio in questi giorni si è saputo che Emanuello farà ancora parte del cast, non ci sono segreti da mantenere, ha dichiarato la sua compagna, la cantante Giorgia. Il nostro problema è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che rimarrà da solo. Questa è quindi una conferma, anche se indiretta. E adesso ne arriva un'altra, che riguarda gli ex allievi. Emanuello sì, Todaro no. Ma per i fan c'è una notizia bomba. Mentre Emanuello sembra essere stato confermato, così come Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ha lasciato il programma dopo tre anni. Al suo posto, secondo quanto rivelato da Davide Maggio, dovrebbe arrivare Deborah Lettieri, al debutto in questa esperienza. Giovedì 26 settembre verrà registrata la prima puntata, e i telespettatori potranno finalmente conoscere la squadra di ballerini e cantanti al completo. Ma la notizia bomba emersa in queste ore è un'altra. A quanto pare, e come rivelato da Novella 2000, la nuova stagione comincerà con una grande sorpresa per il pubblico. Alcuni protagonisti delle passate edizioni dovrebbero essere presenti per consegnare agli allievi le maglie. Di chi stiamo parlando? Preparatevi. I nomi che sono emersi sono di un certo peso, per cominciare. Angelina Mango. La cantante, figlia d'arte, è diventata una delle star più amate della musica italiana dopo il suo successo ad Amici. Accanto a lei, potrebbe esserci Sara Toscano, la vincitrice dell'ultima edizione, e anche Mattia Zenzola. Che ne pensate? Vi bastano?